Salve a tutti ragazzi, benvenuti in un episodio speciale Breac, ok, in questo episodio ci saranno io e Blampy Ok Che bello Oh mio dio C'è la rabbia, meglio che Altrimenti il padre mi ammazza Ho perso, mannaggia Ma come ho fatto a perdere, vabbè ragazzi Ciao Stifo, lo so, ciao